Ci sono altri due caratteri speciali, chiamati jolly, il simbolo della percentuale e il trattino di sottolineatura. Vediamo come si utilizzano. Ora, poniamoci come obiettivo l'estrazione degli atleti, il cui cognome comincia per NER, col n maiuscola. Ed ecco come deve essere scritto il comando SELECT. WHERE, cognome, LIKE, cioè assomiglia a, NER e poi il simbolo percentuale, che sta a significare uno o più caratteri, qualsiasi. Quindi NERUD e NERONE saranno sicuramente compresi nel risultato, ma manca l'appello anche NERI e un altro NERONE, perché questo è NERONettino, ma c'è anche NERONE-BERTO. Vediamo. Ecco qua, tutti quelli che cominciano per N maiuscola e R. Ma immaginiamo di cercare un atleta al cui cognome comincia per NER, e non ci ricordiamo però esattamente poi, ovviamente, come sia il nome completo, ma ci ricordiamo che è breve. Per cui non vorremmo indicare poi una sequenza qualsiasi lunga piacere di caratteri, ma magari provare con quelli lunghi 4 o 5 caratteri, ad esempio. Al posto del simbolo percentuale possiamo allora utilizzare il simbolo, il trattino di sottolineatura, che non è il meno, eh? Attenzione, è questo, sottolineatura. Proviamo a vedere che cosa fornisce come risultato questa SELECT. Soltanto NERI, perché il trattino può essere sostituito da un carattere qualsiasi, ma da un solo carattere. E guardate un po' questa interrogazione. Ver cognome like, or cognome like. Riuscite a immaginare perché il risultato sia questo? Ok, nel primo like ho indicato 4 trattini di sottolineatura. Nel secondo 5. Quindi è come se avessi chiesto o i cognomi che sono lunghi esattamente 4 caratteri, qualunque questi siano, oppure 5 caratteri. Gli unici due atleti che corrispondono a questa richiesta sono appunto NERI, lungo 4 caratteri, e VERDI di 5. Durante il caricamento dei record, alcuni dati potrebbero non essere noti, almeno fin da subito, per cui alcuni cambi potrebbero essere lasciati vuoti, nulli, non compilati. Immaginiamo ad esempio che non fosse nota al momento del caricamento l'età di Nerone Pablo e di Verdi Vedelli. Per avere qualche record con l'età lasciata nulla, vado in corrispondenza dell'età dell'atleta con codice 2, Nerone Pablo, faccio clic con il pulsante destro e scelgo il comando set nulla. Ho annullato praticamente il caricamento del campo età, proprio come se non l'avessi specificato durante il caricamento originale. Non è quindi sufficiente cancellare semplicemente l'età. Ripeto l'operazione su Verdi. E questo è il comando select. La condizione WHERE è diventata WHERE età is nulla, ed ecco Nerone e Verdi. In modo complementare posso chiedere il record in cui l'età non è nulla. La condizione WHERE diventa appunto questa. WHERE età is not nulla. E ottengo tutti gli altri. Abbiamo a disposizione anche altri operatori piuttosto utili. Uno è l'operatore min. Indicando il nome di una colonna, di un campo, di una tabella, restituisce il valore minimo in essa presente. Per sapere allora qual è l'età dell'atleta più giovane, select min età from atleti. Vediamo qual è il risultato. Quindi è una tabella risultato composta da una sola riga e da una sola colonna. Tutto sommato quindi da un numero. Ricordiamocelo perché in altre situazioni sfrutteremo l'operatore min proprio per utilizzare quel numero che viene calcolato in altre espressioni. E se volessimo sapere qual è il nome dell'atleta o il cognome dell'atleta più giovane, la tentazione potrebbe essere quella di scrivere il comando in questo modo. select cognome e nome, where, età uguale min età. Purtroppo questo operatore di aggregazione può essere calcolato solo con una select, select min età, select max età. Quindi dobbiamo ricorrere per forza a una select annidata. Ci siamo quasi perciò, era giusto al 90%. Uguale, e non min età, ma al select min età, from atleti. Ricordate infatti la considerazione di pochi minuti fa? Il comando select con l'operatore min restituisce in pratica un numero. Allora noi mettiamo a confronto il valore del campo età con quel numero. che è il 12 di prima, naturalmente. Proviamo a mandare in esecuzione. Ops, naturalmente dobbiamo però spostare questo from atleti prima della condizione where, quindi lo cancello. Quindi select cognome e nome, from atleti, where, età uguale, eccetera, eccetera. Ed ecco il risultato, neri e nerone. Che sono appunto i due atleti con l'età minima pari a 12. Come dicevo prima, abbiamo a disposizione anche l'operatore max, che, vediamo qua il risultato, estrae il massimo valore nella colonna indicata, sempre l'età. Citerei infine l'operatore AVG, contrazione di average, media. Quindi calcola l'età media. Ed ecco il risultato. E sarete anche d'accordo con me nel convenire che questo nome di colonna è abbastanza criptico, non si capisce, AVG età. Figuriamoci se fosse un'impiegata a dover interpretare il nome di questa colonna. Nel commando select possiamo chiedere di cambiare nome alla colonna che contiene un certo campo. Basta aggiungere dopo il nome del campo, es, come, cioè mostra come, con il nome. E poi se il nome non contiene spazi lo possiamo scrivere direttamente senza nient'altro. Ad esempio media. Vediamo il risultato. Ecco che la colonna è stata rinominata da AVG età alla parola media. Se invece il nome che vogliamo utilizzare contiene spazi, dobbiamo racchiuderlo tra apici. Ad esempio. Proviamo. Ed ecco il nome contenente spazi. E se volessimo vedere l'elenco con i cognomi degli atleti più giovani della media. Eccovi serviti. Seleziono il cognome dalla tabella degli atleti dove il campo età è minore di e qua la select che calcola l'età media. Proviamo. Neri e nerone. Qualche volta più che sapere quali elementi soddisfano un criterio, interessa sapere quanti sono questi elementi. Ad esempio, quanti dodicenni abbiamo tra gli atleti? Il quanti viene calcolato con SQL con l'operatore count, conta. Count vuole tra parentesi o l'asterisco, che sta a significare non tenere conto se su una riga uno o più campi non sono stati compilati. Considera nel conteggio comunque quella riga. Oppure il nome di una colonna specifica. Ma allora, se su una riga quella colonna non era stata compilata, la riga non viene conteggiata. Poi vedremo un esempio per apprezzare la differenza. Al momento quindi basta capire che il count asterisco conta in pratica tutte le righe sulle quali troverà il campo età uguale a 12. Proviamo a vedere cosa risulta. 2. Andiamo a vedere se è vero. Sì, in effetti i dodicenni sono due. Questo e questo. Ora, provo a settare a nulla il nome del primo atleta. Immaginiamo ora di voler sapere quanti sono i dodicenni, ma solo di quelli in cui abbiamo anche a disposizione il nome. Quindi il risultato che ci aspettiamo in questo caso dovrebbe essere 1 e non 2. Perché il primo dovrebbe essere escluso. E' in situazioni come queste, in cui ha un senso indicare tra parentesi nel count invece dell'asterisco, un nome di un campo. Nome. Questa select quindi prende sì in considerazione le righe in cui il valore dell'età è 12. Ma tiene buone, per il conteggio, solo quelle in cui il nome è stato specificato, cioè conta i nomi diversi da null, per quelle righe in cui l'età è 12. e il risultato è 1, come gli avevo pronosticato. Di nuovo è possibile rinominar la colonna con la clausola has e poi il nome che si vuole utilizzare, ad esempio. Per semplificare la prossima situazione, ho reinserito le età mancanti. Ora vorremmo avere un elenco di tutte le età inserite per gli atleti, ma senza doppioni. Cioè sapere che esiste una fascia di 12 anni, esiste una fascia di 18 anni e una fascia di 20 anni. Ma vorremmo vedere una volta sola, 12, 18, 20. Cioè escludere da un elenco i doppioni, cioè le righe identiche. Basta aggiungere la parola Distinct dopo la parola Select. E se due o più righe sono uguali, una sola copia verrà visualizzata nel risultato. Proviamo. tolgo Distinct. Riprovo e appariranno le righe duplicate. Mi accorgo sol'ora che c'è almeno un altro operatore da affiancare MinMax AVG. Il Sum. Sum, come suggerisce il nome, restituisce la somma dei valori contenuti in una certa colonna. Proviamo con l'età, anche se in effetti non è facile vedere l'utilità di una richiesta di questo tipo. 82.